ciao paci ciao cagliostro sono il vostro inviato segreto alengrà con licenza di ridere qui accanto a me ho roberta che ci vuole raccontare una barzelletta ciao paci ciao cagliostro allora siamo in un bar e c'è un cameriere che chiede al cliente il caffè lo vuole normale e lui risponde no guardi me lo faccio un po scemo così vi faccio quattro risate ehi oh ma si è incantato pronto paci cagliostro mi si è incantato il vostro inviato oh scusa mi era incantato dai tuoi occhi bellissimi ma te sei sei bellissima io penso che tu sia la principessa ascolta dammi il tuo numero di telefono ti voglio portare a cena fuori ti prego ciao paci ciao cagliostro